Oh no, che facciamo? Sta calmo, Ash. Aspettiamo. Graudon usa l'attacco colpo di fango. Beautyfly, scelgo te! Coraggio, Mattie, andiamo! Mattie! Dobbiamo fare qualcosa per distrarre Ivan e nello stesso tempo attaccare. Sì. Pisto l'acqua, Mattie! Vai, Beautyfly, metta il solito! Ma che succede? Vai, Gyogre, dagli quello che succede! Non si meritano per essersi mischiati! Ci è cascato! Gyaridos, andiamo! Gyogre si è distratto. Gyogre, attento! Guarda, è la sfera rossa! Vai! Ottima presa, Dragonite! Pikachu! No, Ash! Che è successo? Gyaridos, prendi Ash e Pikachu. Fai presto! Ivan, signore, la prego, dica qualcosa! La prego, Ivan! Ma dove sono? Shelley, sei proprio tu! Ma che è successo? Non ricordo più nulla. Non si preoccupi. Ora tutto è tornato normale. Ehi, Ash! Pikachu! State bene tutti e due? Sì, Gyogre ci ha aiutati a ritornare a galla. Ehi, Pikachu! Pikachu! È fantastico, Miko! Finalmente stai bene! Ora stai bene! Salta su, Ash! Vi porto via da qui. Ok! Perfetto! Per fortuna, grazie a Graudon, tutta l'era di Gyogre è svanita nel nulla. Sì, hai ragione! Ehi, guardate lassù! Sembra che le sfere stiano eseguendo una specie di danza. Grazie a tutti! Grazie a tutti!